Amici del Torneo Settebello, buonasera, si è appena concluso il primo incontro di Coppa Italia fra i Parallel Epipedi e il Cikita Team, con un risultato di 8 a 3 per il Cikita Team, tra con me il capitano dei Parallel Epipedi, Daniele Leop. Daniele, oggi veramente avete prestazione, eravate sotto i 2 a 0 nel momento di sbandamento degli avversari, sono stati bravi a progettarne per pareggiare 2 a 2, ma meglio in poi non c'è stata storia, è arrivata questa scompitta nella competizione. Sì, dopo il 2 a 0 abbiamo reagito abbastanza bene, abbiamo fatto il 2 a 1 al primo tempo e poi il suo tempo un gran gol di pace, abbiamo pareggiato la partita, ma dopo il pareggio anziché continuare allo stesso modo siamo calati, vistosamente tutti quanti. Forse, ecco, atleticamente, tecnicamente l'avversario era superiore a voi? Sì, sì, sicuramente gli avversari hanno meritato, correvano più di noi, anche tecnicamente come di chi due, diciamo più forti di noi. Mi dispiace, ripeto, perdere comunque in questo modo, perché abbiamo recuperato la partita e poi abbiamo perso veramente, potremmo perderla, ma non come l'abbiamo perso, abbiamo perso veramente male, a fine. Sì, sicuramente, è rimasto bello, quindi conteremo tutto sul campionale. Va bene, grazie a Daniele Leotta. A più tardi con Antonio Musumeci per il Cicchita Team, autore anche di due gol. Antonio, oggi non c'è stata storia, arrivate avanti 2 a 0, poi in un momento di sbandamento vi siete fatti rimontare sul 2 a 2, ma da lì in poi tanti gol, non c'è stata storia che aveva dominato. Beh, sì, dai, possiamo dire che la squadra è già da molto bene, anche nonostante i due gol che abbiamo preso, ci siamo stati degni di dare la squadra a vincere in questa squadra. Una buona prestazione la tua, anche quella di Cacciola, di una prestazione che questa squadra sulle fasce lavora molto. Sì, abbastanza, soprattutto perché abbiamo due sterni che hanno un buon piede, purtroppo manca uno che è, diciamo, il leader di questa squadra, giugge la piana. Giugge la piana. C'è che gli vuoi dedicare i gol? Sì, gli dedico i tuoi gol, anche se è dalla sua azienda. Buono dedo. Buono dedo. Però dai, vabbè, alla fine si segnerà in altre partite, la domenica prossima io comincerò a segnare. Va bene, grazie ad Antonio Musumeci, complimenti al Ciclata Team per aver passato il turno. Ci rivediamo più tardi con l'altro partito.